Il Partito Democratico ferma il ministro dell'Interno Alfano e respinge la proposta di cancellare dal testo Cirina il controverso capitolo sulle adozioni. Non è aria, fanno sapere i vertici del PD che tuttavia non chiudono la porta del dialogo, anche perché la corsa sulle unioni civili è appena iniziata e potrebbe essere ricca di ostacoli, nonostante ieri l'Aula del Senato abbia respinto le pregiudiziali di costituzionalità e il ritorno in commissione. Gli esponenti di area popolare sono pronti a dare battaglia fino al ricorso al referendum se non viene modificato il capitolo adozioni. Le prime votazioni sul testo inizieranno la settimana prossima, a quel punto si farà chiarezza sul numero degli emendamenti presentati e sul numero dei voti segreti concessi con possibilità di maggioranze variabili e rischi per la tenuta del governo. E proprio l'uscita dall'esecutivo di area popolare viene chiesta dal promotore del Family Day Gandolfini, che invita Alfano a mollare Renzi dopo il rifiuto del PD di stralciare dal testo Cirinà il capitolo adozioni.